Grazie 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 a questa famiglia O e a Rante in questo momento E di verità E di verità su centro e sa salvinia E su centro e sa tensione Pensando che va a letto Dai mesi e mesi Ha invitato tutti i suonatori A raffigare a sopra e a su baixo Il nostro telefono E ne manco tramite internet O computer E sta andando personalmente A invitare tutti i suonatori De Sardegna E quasi tutti Hanno risposto chiedendo Ci sono chi che mancano Non hanno fatto proprio male Ma semplicemente E quindi ci sono i suoi Sono venduti dai campitani Dai su Zastra Dai su Lugudoro Dai su Lugudoro Dai su Lugudoro Dai su Lugudoro E non manca questa cazzura Perché non è scritta molto bene Ma non è scritta molto bene Ma non è scritta No, no Questo è Torino Quindi Tutta la zona Tutta la regione Sardegna Siamo Rappresentate Scosto che Dite granare Sì Che ci sia Di Sardegna Che sono Cantare Paghe poesia Paghe trasmissione Se per esempio Il salario Comente Comente Alfredo Unietto Che Abbiamo saputo Una lea Presente Di Nove Un applauso La Rappresentate La Rappresentate Del Corpo Di Domenica E su Giocianotte Si disse Manda da Tenati Questa cultura Salta Che non deve Morre Mai E quindi Se deve Di rinunare A tutto Questa Visentina Che Suo Ballo Su Canti Questa Poesia Non deve Morre Mai Sì Che Ripus Che Sardegna Non muove Sicuramente Che ha circa 30 O 30 Di Ma Donatore Se ho Non Paese Musica Sinon Non Non Nella Veniamo In Mago A Gramandano E ho Infitto Subito Subito Su De Nore Di Alla A Ficare A Subra Subra calentare. Presente tutto sullo curato, però ascoltare questa dolce melodia, che il dottor iscano, artista e sudonetto, sa tradizione alla Eze Montenia, che è mancato dagli anni quasi da gassette. E stasera paghemogli un aumento, accusso di primo sonatore, il sughero che sia contento di scoltenere sonette e tenore. Grazie. 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 Grazie.